Sono raddoppiato, se non ci fosse stata, adesso mi sembra che l'onorevole Tozzi non sia più presidente del settimo municipio, se non sbaglio. No, la presidenza del municipio è sempre del mio partito, ma sta affrontando il problema, solo che io capisco la difficoltà che hanno, perché ci sono problemi poi che sono anche di ordine pubblico, la prostituzione come lei sa non è un reato e quindi è anche difficile da combattere in maniera diretta. Lo so, non è un reato però, è una violazione del codice della strada, passare in un luogo dove il trasso è illimitato e soprattutto se uno non concede... Per lei sa che c'è un dibattito forte su questi temi, io quello che sto provando a fare è sensibilizzare i cosiddetti clienti. Se partiamo intanto dai giovani e facciamo capire anche alle famiglie, perché poi ha visto in ballerina c'è il padre di famiglia che va con questa giovane ragazza che alla fine si ribella e succede quello che succede. Diciamo che possiamo fare un'operazione di tipo anche culturale. Certo. L'altro aspetto, quello dell'ordine pubblico... Guardi, noi come Radio Roma siamo disponibili al 100% su questa linea. No, io sono disponibile anch'io ad affrontarlo, anche se non è di diretta competenza e quindi più di questo non mi è difficile fare. Ma infatti io prima le dicevo la sua sensibilità, proprio parliamo l'accento sulla sua sensibilità, infatti che ho visto tra l'altro neanche in alcune donne politiche, che ultimamente è stato il caso non ultimo del dodicesimo municipio, dove sono stati affissi per 15 giorni dei cartelloni che non hanno sortito nessun effetto. Addirittura nelle strade del dodicesimo municipio, parlo della Presidente Patrizia Prestipino, che denotando una scarsa informazione sul fenomeno, effettivamente devo dire, e veramente ha fatto affiggere questi cartelloni, ma la prostituzione si è raddoppiata tranquillamente, forse triplicata, nella zona dopo questi cartelloni, quasi per risposta, paradossalmente. Addirittura. Sì, è incredibile questa cosa. Ripeto, poi il problema più generale va affrontato in maniera generale il problema della prostituzione, in questo caso noi abbiamo voluto affrontare il tema invece proprio di queste ragazze che purtroppo fanno una brutta fine rispetto alle loro illusioni, ai loro sogni, alle loro aspettative. E questo ovviamente è un problema serio e ancora più grave rispetto a quello della prostituzione, perché poi, come dire, se c'è la libera prostituzione, è un'altra storia e forse andrebbe regolamentata in maniera diversa. È un dibattito aperto questo. Speriamo che si riesca a trovare una soluzione tutti insieme, perché poi dovrebbe essere compito della politica dare una risposta anche a questi temi. Voi cosa andate a fare per l'ultima domanda, però dopo dobbiamo dire le pubblicità, perché oggi, veramente, questa puntata sta portando avanti, la stiamo portando avanti, il tempo sta volando effettivamente, perché sono tantissime le cose da dire, gli argomenti che stanno sviluppando effettivamente, io non voglio che questo film sia un fatto episodico, non voglio che l'abbiamo presentato l'8 marzo, abbiamo fatto la nostra bella figura e poi finisce lì. Ecco perché le dico che qualche migliaio di copie che abbiamo acquistato l'andrà nelle scuole, in tutte le scuole superiori del Lazio, accompagnato da una lettera e cercheremo di organizzare nelle scuole poi dei dibattiti, oltre che delle proiezioni. E in più stiamo ragionando su finanziamenti, questo con l'assessorato, la dare opportunità e con il coordinamento regionale delle donne, per estendere il discorso delle case protette, cioè possibilmente dare un'opportunità a queste ragazze, come dire, di sfuggire ai loro protettori e fargli cambiare vita. Un'ultima domanda, assessore. Nel film si evidenzia con grande decisione il fatto di colpire i clienti, questo messaggio è molto forte e molto determinato. E certo, ma per quello la sensibilizzazione... Lei cosa ne pensa? Perché sia molto giusto colpire i clienti, cioè noi dobbiamo sensibilizzare le giovani generazioni, ovviamente le loro famiglie, a far capire che non è così che si dà libero sfogo anche ai propri istinti sessuali. Perfetto. Io a questo punto, assessore, io la ringrazio tantissimo per essere... Grazie a voi. La ringrazio ancora per la sensibilità, le rinnovo i complimenti di prima, perché veramente questa è una cosa, la prima volta, ripeto, che ho trovato un... Io la ringrazio, è molto gentile. Un, come dire, una persona in qualche modo permeabile da questo punto di vista, invece spesso nelle istituzioni si trova un muro di gomma. Beh, io credo che sia nostro dovere occuparci di problemi così seri e così forti. Di nuovo, grazie mille per l'intervento. Grazie a voi. Volevo salutare... Buon pomeriggio. Pronto? Sì, Rosario. Sì, volevo salutarti. Ho riconosciuto la tua voce. Sì, aggiungere praticamente che una persona che ha un cuore e una sensibilità enorme. Grazie. Grazie, Rosario. Un abbraccio a tutti. Grazie. Ciao. Di nuovo, grazie all'assessore Mario Michelangelo, appunto, assessore per la tutela dei consumatori, poi estesa per la tutela dei diritti dei cittadini, insomma, come... Comunque a questo punto veramente sta incombendo anche la pubblicità. Ritorniamo in studio.